Grazie! Sono cresciuto e maturato, non solo artisticamente perché io ho iniziato molto giovane, però il primo Sanremo l'ho fatto che avevo 19 anni e quel Sanremo l'abbiamo anche vinto e in tutti i luoghi, in tutti i laghi lo cantano pure a Parigi, no? Che dite? Sì! Lo possiamo cantare allora? Anzi, lo potete, lo potete cantare! Pronti? Non corrisponde il flusso delle scuole, battito del cuore e te, e le volte che chiedi scusa e scusa più a te, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Per tutte le volte che il tuo racconto forse non lo è, ma il dubbio basta a farmi ritrovare quella voglia di gridare, ma... Poi c'è una volta il cuore, scatta qualcosa fuori dentro noi, e tutto il resto è piccolo come l'anno spin per centimile, come se un giorno freddo in pieno inverno, l'ultimo è verissimo, più tanto freddo perché noi, coperti sotto il mare, a farmi... In tutto il mondo l'universo che ci segue, ma ormai siamo raggiuntibili!